ciao a tutti oggi è il 13 ottobre 2023 vediamo un attimo il panorama ecco guarda un po il mare l'immensità del mare con la chimica nel cielo il cielo è completamente schermato vediamo un po questo motoscafo il cielo è stato irrorato è tutto chimico guarda che roba che striscia che fa le eliche vedi come separa le acque il motoscafo guarda che roba quello divide le acque le separa un attimo dopo le acque ritornano in sé guarda un po se è fermati se è fermati è andati a pesca vediamo il panorama che c'è Porto Recanati qui si vede con il cielo completamente oscurato artificialmente guarda qua che roba guarda tu dopo dopo stiamo male guarda che roba guarda un po che tramonto che tramonto non mi sei o tenebroso c'è la tenebra nel tramonto guarda il monte Conero vedi c'è la striscia che ha fatto il motoscafo e il monte è ottenebrato dal manganese e dal bario ciao ti fa qualcosa qua? no no sto facendo un volo col drone ah pensavo che lui staccava questo di corrente no no ci mancherebbe mi stavo appoggiando ah no forse no no eccolo qui no no tranquillo e poi sto registrando qui con l'audio ah audio e video no perché l'avevo visto queste cose sono i contatori del balneare che è il mio ah non lo sapevo no tranquillo se do fastidio mi sposto no non mi dai fastidio io pensavo che era qualcosa no no ci mancherebbe grazie allora e adesso andiamo verso Loreto andiamo verso Loreto in questo lago questo laghetto dei cacciatori vediamo un po' questo stagno guarda un po' che bel lago vedi la postazione dei cacciatori c'è i gabbiani l'hotel Jet dopo tutte le villette villaggio un villaggio è turistico un altro villaggio turistico qui come potete vedere è pieno di villaggi turistici che cacciatori Grazie a tutti. Adesso andiamo verso l'alto mare. Guarda un po' come cambia la panoramica. Andiamo a vedere la sbocca del fiume Musone. Guarda un po'. Il flusso si incanala e ha formato un laghetto. Vedi sulla sinistra c'è le voci del mare, dopo c'è... Guarda un po' la sbocca del fiume Musone. Eccola qui. Vicino le voci del mare c'è Dario, un altro balneare. Vedi ci sono i pescatori. Il fiume Musone, vedi? I campi da tennis. E poi il camping. Questo qua, guarda che roba. È enorme questo qui. Questo è il campeggio più grande che c'è. E poi la scuola. adesso mi abbasso andiamo a vedere i pescatori sorvoliamo tutto il litorale grazie 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 a posto a posto fatta finita adesso stacco a posto spero che ti ha piaciuto questo filmato hai potuto rivedere i panorami bellissimi che c'è qua giù la spiaggia a lungomare e la batteria è al 60% pensa che roba è una roba impressionante questo drone qui è eccezionale questo è stato proprio un buon investimento per me e per tutti voi che mi seguite e allora adesso vi saluto e alla prossima ciao 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 ciao